Dopo la sosta tutti abbiamo questa domanda a partire dalla mia squadra, quindi io spero di trovare la mia squadra che stia bene. Dopodiché guarderemo agli altri, ovviamente la serintana è una squadra che ha sempre giocato con il 5-3-2, con caratteristiche ben precise, ha un buon possesso palla, quindi una squadra che costruisce, gioca, si apre, quindi sono convinto che non sarà molto diverso da quello che ho appena detto. E' una squadra che gioca a calcio, sa giocare, si aprono, propongono, è chiaro che hanno alterato anche loro delle situazioni positive ed altre meno, per cui entrambe proveranno, non sia noi che loro, a fare qualcosa, vediamo chi sarà più incisivo.